mi hai stufato me ne vado contenta? sabato sera vedrò Ellie mi sape your sex chi ha già fatto cosa? cosa ha fatto chi? Ellie che cosa sono questi? rispondi Ellie cos'è? non lo vedi da sola? cammi tranquilla non sono per me e non essere scortese è la sua gentile donzella non prendermi in giro capito Elisabetta non cercare scuse ma cosa c'è da sapere? c'è solo da fare fratellini oddio sei incinta si certo mamma sono incinta per questo utilizzo i preservativi andrai lì ti troverai davanti a lei sembrerà un fantasma hai paura eh? intoccabile attorno a te è il vuoto ti stai cagando addosso? eh no non si può spiegare sei ridicolo quando due persone con i loro colori si mischiano la loro somma diventa l'insieme di tutti quei colori è come il bianco si diventa un tutt'uno del colore del bianco non si può spiegare